Un buongiorno a voi dal vostro Professor Trunz, Miau Miau. Titolo Dietro Dietro ogni questione c'è un perché. Dietro un'onda c'è un perché. Dietro la storia c'è un perché. Dietro un matrimonio c'è un perché. Ecco, ora fai due passi indietro, senza girarti, e ciao. Perché vedi, dietro c'è un buone. Ciao.